E' facile per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fare il bullo con la televisione di Stato, però mi chiedo anche se sia normale in una democrazia come la nostra, mi chiedo se sia normale che il Presidente del Consiglio Conte convochi una conferenza stampa per fingere di dover raccontare dei nuovi provvedimenti presi dal Governo e poi di fatto la utilizzi per parlare male dell'opposizione, per accusarla di menzogne, ovviamente senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Mi aspetto di avere la possibilità attraverso la RAI di parlare allo stesso numero di cittadini nella stessa fascia oraria per spiegare il mio punto di vista e mi chiedo cosa ne pensi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché va bene essere vicini alla Cina, ma qui siamo un po' più vicini alla Corea del Nord. PS, Presidente Conte, nel 2012 al Governo non c'ero io, c'era Monti. Non è bello usare la televisione di Stato per diffondere fake news.